Storie, storiacce e storielline, le favole. Le favole hanno una storia antica, strano a considerare, ma se pensiamo che nel 700 a.C. in Grecia escono le favole, il teatro, la filosofia, tutta una serie di cose che poi hanno segnato tutta la storia che è passata. Uno di questi personaggi delle favole è Esopo, un uomo zoppo, un uomo brutto. Ma questo lo raccontano quelli che vengono dopo, che era brutto. Brutto perché raccontava favole. E' una delle cose che, invece, deve pensare che la tradizione delle favole era in genere delle persone anziane. Le persone anziane raccontavano la storia. In quell'epoca la storia era orale. Ognuna contava, per esempio, uno dei fondamenti delle storie greche e sono i due poemi, l'Iliade e l'Odissea, dove c'è dentro tutto. C'è dentro la religione, la storia, c'è dentro il pensiero di allora. Esopo. Gli animali parlano nelle favole di Esopo. E tu dici, beh, è una cosa che Walt Disney ha fatto fare il suo topolino per l'ultimo secolo. Quindi è la stessa cosa. Cioè, gli animali parlano perché sono gli uomini che parlano. Una di queste storie, la prima storia che vi racconto, è Il lupo e l'agnello, che conoscete in molti. Perché si dice lupus in fabula. Cioè, nella fabula c'è nella favola c'è il lupo. Un agnello, un agnellino, di otto mesi, neanche sei mesi, abbandona la madre e va, c'è il ruscello che scende dalla montagna per bere dell'acqua fresca. Mentre beve, guarda su, e c'è un lupo che beve anche lui. Il lupo guarda l'agnello e dice, E tu, perché mi intorbidi l'acqua? L'agnello dice, scusate, signore, ma l'acqua scende da voi a me. Come faccio a intorbidirla? Beh, un anno fa tu hai intorbidito l'acqua che io stavo bevendo. Oh, scusi, signore, ma io un anno fa non c'ero ancora. Ho neanche otto mesi. Beh, tuo padre, un anno fa, ha intorbidito l'acqua. E l'ha salito, e l'ha mangiato. E la storia è, quando un prepotente vuole agire di prepotenza, trova sempre una scusa, anche se assurda.